Clizia è contentissima. Oggi ha mangiato le uova in camicia, dopo tanto tempo perché non le poteva mangiare in quanto incinta del piccolo Gabriele. Bebe dorme! Finalmente! Ah, amore, ti è venuto buonissimo! Sì, finalmente posso mangiare ciò. Buona domenica anche a voi e Clizia, buon appetito! Grazie a tutti!